A Singapore abbiamo visto una differenza di tempi sul giro tra le due mescoli di un secondo e mezzo, probabilmente la più alta di tutto il campionato, come mai? È vero, un secondo e mezzo di differenza tra la super soft e la soft è importante come differenza. In realtà la soft non aveva il livello di grip di tenuta che aveva la super soft, e un circuito come Singapore dove ci sono 23 curve, vuole che la gomma, quasi quasi una prova di rally, è sempre in appoggio, cioè sempre deve dare trazioni, quindi amplifica l'impatto di mancanza o differenza di grip tra le due mescoli. All'inizio della stagione alcune vetture registravano un'importante differenza di temperatura tra le gomme anteriori e quelle posteriori, è ancora così? Ma si vede oggi che ci sono certe macchine che hanno fatto un gran passo avanti da Lungaria, e un gran parte di queste che hanno bilanciato le temperature tra l'anteriore e il posteriore, forse il McLaren è l'esempio più importante, dove all'inizio della stagione avevano problemi, avevano problemi di mettere in temperatura le anteriori, hanno pensato loro. In realtà hanno dovuto abbassare la temperatura di utilizzo del posteriore, alzando un po' anche l'anteriore per bilanciare le situazioni. Oggi non vedremo più queste differenze. Se c'è un problema oggi, forse qualche squadra ha un problema di overheating, di riscaldare troppo la superficie del posteriore. Questo è un altro tipo di sfida per loro. Il prossimo GP è quello di Giappone. Qui i piloti avranno a disposizione l'EP-0 Silverhard e l'EP-0 Yellowsoft. Ci spieghi questa scelta? Allora, Suzuka è una delle piste famose per l'usura delle gomme. Cioè è sempre stata una delle piste più aggressive, aveva un asfalto molto abrasivo. Hanno cambiato la metà del circuito un paio di anni fa, e ci hanno detto che anche per quest'anno rispetto all'anno scorso ci sono altre curve che hanno cambiato. È anche fattibile avere una temperatura alta di 35, anche 40 gradi, quindi ci vuole sempre una gomme più conservativa e questa è la mescola dura. Detto questo, se c'è meno usura sulla pista, possiamo giocare bene anche la mescola morbida. E l'idea è di creare tra le due una sfida di strategia tra le macchine e i piloti. Nei giorni scorsi è detto che Robert Kubica potrebbe essere un ottimo tester per Pirelli. C'è qualcosa di concreto o è solo un auspicio? Allora, in questo caso mi hanno chiesto se, avendo forse a me a guassare chi va di nuovo in Formula 1, che per noi è fantastico, cioè è esattamente quello che abbiamo voluto, vuol dire che 4 piloti su 5 testa Pirelli F1 sono ripassati in Formula 1, quindi è un risultato ottimale. A questo punto la domanda è stata, ma chi sarebbe un pilota ideale per voi? E' un nominato, tra l'altro il nome è Robert Kubica, perché Robert ovviamente ha avuto il suo incidente in una macchina di rally, oggi non sembra fattibile che lui rientra in Formula 1, sicuramente per l'anno prossimo, ma se con tempo di recupero lui potrebbe guidare una Formula 1, Pirelli sarebbe ideale fare un programma con Robert. Non c'è niente di particolare, ma è un tipo di pilota che interessa a noi, perché facendo un anno di testing con noi potrebbe rilanciare Robert in Formula 1. Se non fa Formula 1 proveremo di fare qualcosa con il prodotto rally, quindi qualcosa con Robert lo faremo.